La settimana scorsa ho fatto un sogno su Montian. Davvero? Sì. E che succedeva? Ma una serie di cose. Io ero a tette nude? Sì. Scusate. 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 Aspettiamo una bambina. Una bambina. Tutto ok. Porca troia. Questa è casa loro. Siamo andati all'università con questa gente. Com'è che sono così adulti, mentre noi siamo... Impediti? Confusi? Immaturi? Americani? Dai, rifallo. Che figata. Wow. Ciao Camille, Camille. Ti ricordi di noi? Possiamo entrare? Ok, sono in camera loro. Mamma si mette la minigonna. Ok.